Questa ricerca è partita un po' in tutto il mondo da un modello animale particolare che abbiamo iniziato a studiare qui per primi, che è il polpo, il polpo comune, il polpo che siamo abituati a mangiare. Riesce a generare delle forze per affiorare oggetti, sa manipolare oggetti, sa camminare, sa nuotare, quindi tantissimi compiti che sono utili anche in robotica e che il polpo riesce a fare pur non avendo uno scheletro rigido, che invece è un elemento fondamentale dei robot. E' un ulteriore sviluppo tecnologico che appunto permette di realizzare robot molto diversi, probabilmente più adatti al mondo reale, più adatti a questa diffusione che tanto si immagina per la robotica nei prossimi anni, diffusione nelle nostre vite, nella società degli uomini. Nell'ambito di questa attività abbiamo attivato una collaborazione con l'MIT di Boston, abbiamo iniziato anche una collaborazione con il comune di Pisa, che vuole fare un nuovo piano della mobilità per l'area metropolitana pisana e per questo ha chiesto la nostra collaborazione. Credo che sia la prima volta che abbiano chiesto appunto agli enti e alle istituzioni di unirsi insieme per trovare una soluzione ai problemi che ci sono su Pisa ed intorni. Cioè abbiamo trovato due buchi neri particolarissimi, che non erano mai stati osservati prima. In particolar modo questi due buchi neri hanno una massa particolarmente strana, stravagante, ossia non sono né troppo piccoli, come quelli che sono osservati comunemente attorno a noi, e né sono super massicci, come quelli che si trovano al centro di praticamente tutte le galassie, arrivando a pesare miliardi di volte il Sole, quindi dei veri e propri mostri cosnici. Sicuramente questa ricerca rappresenta un passo avanti fondamentale per la comprensione dei meccanismi di formazione dei buchi neri e quindi anche dei meccanismi di formazione delle galassie, che sono i nostri condomini stellari. Molto dipende dall'elaborazione di molti circuiti cerebrali che noi cerchiamo di studiare, sia nella fisiologia, quindi sia nelle persone normovedenti, utilizzando varie tecniche, tra cui anche le tecniche di risonanza magnetica a campo ultra alto, e utilizzando altre tecniche più comportamentali o la misurazione di parametri fisiologici, quali il movimento degli occhi e delle pupille. Ora lo facciamo anche in persone che hanno difficoltà o patologie del sistema visivo, quindi per esempio nelle persone non vedenti, per cercare di capire quali sono i meccanismi che consentono loro di orientarsi comunque nello spazio e di agire nel loro spazio, e quindi nel limite anche cercare di aiutare il recupero di queste funzioni. Attualmente stiamo lavorando su un progetto che mira a sfruttare una nuova proprietà della luce, che è il momento angolare della luce, come dominio aggiuntivo per aggregare più informazione, e siamo coordinatori di un progetto europeo che vede coinvolti altri sei partner europei e un partner canadese. Abbiamo recentemente sviluppato il primo prototipo di radar che sfrutta la fotonica, l'abbiamo dimostrato anche su campo nell'ambito di una collaborazione con la Marina Militare e con l'Aeronautica di Pisa, e ora stiamo proseguendo questa attività con altre aziende per sviluppare altre soluzioni, nell'ottica di andare verso soluzioni sempre più a basso costo e a basso consumo e ad alte prestazioni. La mia ricerca è soprattutto focalizzata allo studio dei processi vulcanici, quindi tutto quello che riguarda le eruzioni dei vulcani, sia italiani che vulcani stranieri. Questo è un plastico dell'Etna, l'Etna è il più alto vulcano europeo, è un vulcano quindi italiano che è uno dei fra i vulcani più attivi al mondo, che produce, come dicevo prima, sia eruzioni esplosive che eruzioni effusive. Quindi bisogna studiare anche in questo caso quali sono le leggi fisiche che governano un movimento di gas e di particelle, che sono quelle che sono eruttate durante un'eruzione. Coordino un progetto di ricerca che è stato finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che si chiama Futurama, e ha con obiettivo quello di studiare le tecniche pittoriche tra futurismo e ritorno al classico. nell'età delle avanguardie e comunque nei primi decenni del Novecento. L'idea è quella non di portare le opere al di fuori, diciamo così, dallo studio, quindi metterle a rischio movimentandole, ma attraverso una metodologia che proprio a Firenze, tra Opificio e CNR, si è sviluppata nel corso dei decenni, l'idea è di potenziare il più possibile strumenti portatili per analizzare in maniera non invasiva le opere. Il latino non è morto per niente, in molti sensi non è morto per niente. Io non insegno a studenti che vogliono diventare filologi classici e non insegno a studenti italiani che provengono tutti dal liceo classico. Partono tutti da zero. E questo mi consente di far ragionare chi si sente erede del mondo romano, del mondo latino, del mondo antico, sulla propria eredità, costruendola però in un dialogo, ma facendolo tutti insieme, con dei ragazzi giapponesi, nordafricani, arabi, cinesi. Mi consente di far comprendere anche agli europei, anche agli italiani, che le identità, le storie culturali, si costruiscono di volta in volta. Fino a poco tempo fa, il latino e il greco lo potevano imparare soltanto i ricchi, soltanto i maschi, in molti casi, soltanto gli appartenenti alle élite. Adesso è arrivato il momento di far imparare, di dare a tutti la possibilità di recuperare la storia di queste parole, la storia di questi concetti, la storia di questi termini. Sviluppiamo nel Fab Lab delle tecnologie che sono fatte ad arte perché sfruttiamo il concetto di artigianato, ma utilizzando delle macchine molto particolari, delle macchine che ci permettono di lavorare con tecnologie laser per il taglio e l'incisione di qualsiasi tipo di materiale, la pelle, il vetro, laminati, il legno, e quindi possiamo produrre degli oggetti fatti ad arte appunto. Possiamo stampare in 3D, abbiamo una falegnameria, nel Fab Lab per esempio produciamo delle protesi per arti mancanti. Il senso di tutto questo è che le tecnologie sono alla portata di tutti, quindi è importante che ognuno con la propria competenza, col proprio sapere, dia un contributo per sviluppare dei progetti innovativi, di eccellenza, che siano utili per l'utilizzatore finale. Il mio progetto ha lo scopo di capire quali sono i meccanismi molecolari alla base della resistenza alla terapia, ovvero come mai certi pazienti ad un certo momento smettono di rispondere ai farmaci e questo provoca una ricaduta del tumore. In particolare ci occupiamo dei meccanismi metabolici alla base, ovvero come certi tumori usufruiscono di nutrienti a disposizione al loro vantaggio. Abbiamo individuato questi tumori resistenti a essere avidi di qualsiasi cosa abbiano a disposizione, qualsiasi nutriente, in particolare sono in grado di adattare la loro dieta a seconda delle esigenze, a seconda della disponibilità. Questo fa sì, come potete ben capire, che più sono abili nell'adattarsi a questi diversi nutrienti e più questo tumore diventa aggressivo e quindi difficile da trattare. In particolare mi occupo del lavoro di un fisiologo francese che si chiama Etienne Journaret. È il programma di dottorato nel quale il lavoro si chiama Analysis and Management of Cultural Heritage, cioè Analisi e Management del Patrimonio Culturale. La mia unità di ricerca si occupa dello studio interdisciplinare dell'immagine proprio perché siamo ricercatori e docenti e studenti che provengono da background anche molto diversi e variegati e io sono la responsabile dell'organizzazione e del coordinamento degli eventi organizzati all'interno dell'unità di ricerca, in particolare seminari di ricerca. Lavoro con il gruppo di Pisa che partecipa all'esperimento di Atlas. Atlas è un esperimento all'HC, il collusionatore più grande del mondo, a Cerna e Ginevra. Un risultato che è molto notato è la scoperta della particella di Kiggs. Abbiamo sviluppato questo sistema che si chiama Fast Tracker. Funziona come una macchina fotografica. È molto veloce, una macchina fotografica che prende una fotografia di 100 megapixel ogni 25 nanosecondi. Noi stiamo cercando con un gruppo di studenti e ricercatori di usare questi algoritmi e questi sistemi elettronici che sono sviluppati per Atlas per applicazioni fuori il mondo di fisica di alte energie. Abbiamo iniziato nel 2012 con un progetto che si chiamava Robolò. Questo progetto era finanziato dalla Commissione Europea e mirava a sviluppare delle indicazioni per la Commissione e per le istituzioni europee affinché potessero regolare queste nuove tecnologie emergenti. Questa nostra attività ha avuto un particolare successo. Abbiamo presentato le nostre conclusioni in un'udienza della Commissione Affari Legislativi del Parlamento Europeo. Le abbiamo presentate anche alla Commissione Europea e da quel momento è stata istituita una commissione a livello di Parlamento Europeo per la regolazione della robotica e dell'intelligenza artificiale che ha preso proprio come punto di partenza le nostre considerazioni. facciamo ricerca di tipo clinico in quanto abbiamo studi innovativi con farmaci nuovi farmaci che sono appena usciti appena stati sviluppati e che noi impieghiamo nei nostri pazienti per offrire loro il massimo che c'è oggi a disposizione in ambito ematologico. E poi abbiamo una ricerca più di base diciamo più di laboratorio per esempio di capire la natura della cellula staminale leucemica quindi la natura della cellula diciamo che dà inizio alle nostre malattie. Il nostro laboratorio è un laboratorio che ha la tecnologia che serve in ambito ematologico e insieme ai miei colleghi gli studenti i dottorandi i ricercatori cerchiamo ovviamente di portare avanti questo tipo di ricerca. Nessuno si sente escluso è quello che consiglio ai ragazzi di fare di studiare quello che prediligono coltivare quest'amore e questa passione di non arrendersi seguirla fino in fondo senza essere preoccupati di quello a cui potrà portare. Si stanno creando nuove aree di interesse un'area di in continua crescita in continua evoluzione in cui è veramente emozionante esaltante essere coinvolti. Soltanto facendo un lavoro come la ricerca con passione si possa fare bene si possa quindi dare un contributo alla fine anche alla ricerca. Se avete la passione per la scoperta anche per l'avventura fare il ricercatore fare la ricercatrice è un'avventura. Bisogna essere consapevoli credo anche degli obiettivi e delle prospettive di lavoro e cercare di affrontarle con determinazione. La cosa importante è scegliere qualcosa che veramente si vuol fare non adattarsi in modo tale da non vivere poi le frustrazioni legate a un eventuale lavoro in modo negativo ma avendo la passione che ci consente di andare avanti. È una scelta che sta diventando sempre più coraggiosa non mi sono mai pentita ma anche perché ho trovato sempre persone veramente molto valide che mi hanno insegnato tantissimo durante il mio percorso. Noi stiamo cercando di allontanare i frontieri della conoscenza della scienza non è un lavoro di otto ore quindi per forza deve essere una passione vera. Ci vuole grande determinazione e grande dedizione occorre crederci darsi da fare bisogna aver fiducia anche nel nostro paese pensare a cosa possiamo noi fare per migliorare il mondo in cui viviamo. Le strade sono molto lunghe per arrivare però se uno fa quello che ama arriva è lì credo la chiave per diventare un bravo ricercatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.